Stiamo qui inizio, era perché volevamo fare un regalo di Natale. Pensavamo un po' a un modo nostro, quale sarebbe potuto essere un regalo di Natale. E abbiamo pensato che la cosa più bella da donare forse è il proprio uomo. Un tempo, tutti noi, chi lavora, chi studia, ci sono un po' tutte le età, abbiamo pensato di regalare un pochettino del nostro tempo a voi, affinché potessimo portare nei vostri cuori un'oretta di gioia, tutto qui, senza pretese, a voi. Grazie a tutti. 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 E anche noi abbiamo un po' volato nella mente immaginando di essere completamente liberi come le palme a vento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.